Ciao a tutti e bentornati del mio canale prima di vedere questo video iscrivetevi al canale per perdere più video oggi farò vedere la posizione della scrive cioè quando faccio i video e come vi iniziamo da qua qui ho messo un cassetto con questo una foto di mio fratello e questo che dentro ci sono le magliette e un tablet qua ci sono i miei libri le cose di mio padre questo caledario un computer dei portapenne questo della mia e cioè questo del mio fratello e questo con me e mio fratello e questa è la mia posizione quando faccio i campiti e il video ciao domani che vi devo dire a domani